Tra i vari interventi che riguardano la psicoterapia di gruppo in rapporto alle dipendenze d'alcol ci sono i gruppi formati dai cosiddetti alcolisti anonimi e dagli alcolisti in trattamento. I primi considerano l'alcol dipendenza come una malattia, i secondi la ritengono come uno stile di vita non appropriato, disfunzionale. Nel gruppo degli alcolisti anonimi tutti i membri sono considerati alla pari e invece il club formato dagli alcolisti in trattamento hanno un leader, un conduttore, un facilitatore. della discussione ovviamente. Il percorso che l'alcolista compie all'interno degli alcolisti anonimi è considerato una sorta di cammino spirituale che gli consente di acquisire un nuovo stile di vita. L'obiettivo che si prefiggono i club alcolisti in trattamento non è soltanto l'astinenza del singolo ma anche un cambiamento nello stile di vita dell'intero sistema familiare.